Ciao da Gregory, per voi con Kikkoman vi diamo nuove soluzioni. Per le vostre ricette faremo straccetti di manzo marinati con dressing allo yogurt e delle mandorle croccanti saporite. Per la marinatura degli straccetti utilizziamo la salsa poke perché riduce lo zucchero. Abbassiamo il contenuto di sale e avremo una nota leggermente piccante per degli straccetti fantastici. La versatilità nipponica unita al talento italiano per The Chef e professionista con soluzioni innovative per le tue esigenze.